Ok tutto fatto No mata Da quanto tempo capo Spero vi troviate bene in Bolivia Non ci annoiamo Finché siete in servizio vorrei approfittarne per risolvere una questione fresca fresca Spara A quanto pare in Bolivia c'è ben altro che della semplice cocaina purissima Sotto quelle piante hanno scoperto dei giacimenti di uranio e lo stanno già estraendo Merda C'è di peggio Ci risulta che degli ultranazionalisti russi stiano dando loro una mano in cambio di parte dell'uranio Notizia fondata Abbiamo un ghost in loco Un ragazzino scaltro che si è finto un agente russo per infiltrarsi nell'Unidad Nome in codice Little Brother Carino L'Unidad manderà presto dei campioni del suo uranio in Russia Dobbiamo intercettarli Mettiti in contatto con Little Brother Lui conosce i dettagli dell'operazione Ricevuto Merda Mitchell è venuto in Bolivia a giocare Speriamo non si sia arrugginito dietro la scrivania Non va così No Dopo il primo scontro a fuoco sarà come se non avesse mai smesso La vecchia banda torna al completo Ci sono, forza Che cazzo Ma non c'è nulla di più E non solo Adesso 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 In occasione Di provarci Di creare un business Per donare una vita di agile Proplicare Per donare una radio ribelle Attiviamola Arriveranno quelli del Santa Blanca Come suonare la campanella della cena Little Brother Queen Nomad Ah Cristo Per favore Non chiamarmi in quel modo Qualcosa di più figo Tipo? Non lo so Speed Speed mi piace Non intendo compromettere l'integrità dell'operazione Per cambiare il tuo nome in codice Se non ti piace parla con Griffin Merda Ok Hai vinto tu Non abbiamo molto tempo La situazione? Il posto è molto ben difeso L'unica è col paracadute Per entrare dovrete saltare in base jump Dalla rupe soprastante Che tipo di accoglienti? Se ci aspetta Vi farò trovare una zona d'atterraggio libera Di più non posso fare Nervi saldi E non preoccupatevi di finire Di lucidare gli stivali Possiamo fidarci di questo stronzetto? Griffin ha garantito per lui Griffin non si sta paracadutando In una base dell'Unidad A volte bisogna avere fede In Dio però Giusto? E in Griffin Nomad Un'ultima cosa Non fatevi scoprire Se qualcuno vi vede La missione salta Mi ha investito da qui会 Non un'unica cosa Mi ha investito La missione salta Mi ha investito Aucienze